Salve ragazzi, benvenuti al canale, oggi raga di nuovo qui sulla splendida mappa AmarCord, ovviamente su Farming Simulator 19, ovviamente di nuovo in compagnia del nostro buon collega Sten84 che salutiamo e diamo il bentornato Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, grazie per l'invito, buongiorno Simulator sulla mappa AmarCord Ma figurati, ma figurati, allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con l'inizio delle varie semine, avevamo raccolto un po' di balle, abbiamo fatto un po' di fieno, l'abbiamo raccolto Insomma un pochettino di robe ci siamo portati avanti, avevamo trebbiato anche se non mi sbaglio, sì avevamo trebbiato, comunque terminato le trebbiature Oggi dobbiamo fare un po' di cosine interessanti, innanzitutto sicuramente andare a terminare di raccogliere le balle sul campo 10 o sul campo 40 Poi il campo 40 sarà da analizzare e poi andremo a convertirlo come detto nello scorso episodio ad erba medica Per quanto riguarda invece il nuovo campo 2 dovremmo analizzarlo, no l'avevamo già fatto, dobbiamo passarci solamente il PA che puoi andarlo a seminare e poi altre 3-4 cosucce insomma Collega, da che cosa vuoi partire? Vedi tu, se vuoi passare la calce sul campo 2 parti a passare la calce sul campo 2 vai Poi il cassone questo qui l'ho preso giusto un attimo per tappabuchi ma la mia idea di oggi sarebbe quella di andare a prendere il pianale autoload questo qua raga Litty runner, ovviamente per andare a utilizzare questo qua dovremo andarci a prendere il camioncino Temporaneamente vado a prendermi l'Iveco, poi quando facciamo un po' di soldini voglio andarmi però a prendere anche il MAN perché voglio testare anche il MAN Però per il momento prendiamo l'Iveco che comunque è molto carino, funziona bene insomma L'altro pianalino piccolo ovviamente ce lo teniamo per sicurezza però insomma non so quanto poi ci servirà nell'effettività delle cose Comunque va bene, compriamolo, compriamo tutti e due, io non l'ho provata questa storia qua ma in teoria il pianale dovrebbe tranquillamente tirarselo su perché è un pianale IT runner Quindi attaccarlo ovviamente si attacca e caricarlo ovviamente lo carica, che meraviglia Boh, attaccare l'abbiamo attaccato, è parecchio lungo come carro, come cassone diciamo, come pianale Facciamo 1.3 round ball e facciamo accendi Vediamo se me le carica, si me le carica in piedi e mi carica la bellezza di 20 balle Beh direi che dalle 12 di quel cassoncino piccolino insomma abbiamo già fatto un bel upgrade eh Così anche il trasporto raga dovrebbe risultare molto più semplice, non rischiamo di cappottarci perché sapete che poi le balle più sono impilate più si rischia di andare a cappottarsi Invece così col pianale non dovrebbe esserci grosse problematiche Comunque per il momento campo 10 abbiamo fatto 11 balle, dovrebbero essere circa tutte da 20.000 Quindi abbiamo già fatto un bel caricuccio Allora scarichiamole, le leghiamo e andiamo verso il campo 40 Così iniziamo a caricarci anche le balle di fieno Anzi direi che facciamo due carichi separati va quasi quasi perché dato che dobbiamo andare a scaricare in due punti separati poi Non so come caricarmi Eh sì parlavamo di baricentro che non si cappottava Ottimo Allora scarichiamo le ballotte Boh ma abbiamo già fatto veramente un bel po' di carichi di balle raga Adesso poi ovviamente tutte ste balle appena avremo la possibilità le andremo a vendere anche per recuperare un pochettino quelli che sono i soldi Eh generali Qua ti devo sbloccare la velocità Sì è finita la calce però all'interno di questa No Di questa macchina Sì 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 è appena finita Ma come è finito 18.000, 20.000, 10.000 litri Vai a vedere è a zero ed è fermo il Deus Vabbè misteri della tecnologia Non lo so guarda non so che dirti Qualcuno te l'ha fregata comunque secondo me Eh sì può darsi Non voglio dire niente È arrivato qualche volpe ce l'ha fregata Allora andiamo a recuperare Mamma ma da questo campo ne sono uscite balle comunque anche di fieno eh Ok raga dai ho raccolto tutte le balle Spero che non ce ne sia nessun'altra nel fiume In teoria no perché dovrei 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 in teoria vederle ma Ce n'era una sì e che è scappata ma le altre no 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 Non mi sembra che ce ne siano altre Bom allora scarichiamole un attimo le leghiamo Niente partirei con le semine praticamente Campo 2 e campo 10 Nel campo 1 Già l'hai spostato Sì no non l'ho spostato stavo attendendo Ah ok no no allora puoi anche spostarlo se vuoi Eh allora ah giusto giusto Campo 2 e campo 10 devi seminare il triticale Devi fare 2 e 10 tutti e due Sì 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 tutti e due triticale Va benissimo Allora bom il camioncino raga possiamo anche posarlo momentaneamente Tanto non ci serve più le balle per il momento le abbiamo tirate su Io nel frattempo vado sul 40 a sistemarmi l'analizzazione Beh devo dire che comunque è uscita sia un sacco di paglia che un sacco di fieno eh veramente Allora bom partiamo con l'analizzazione del campetto 40 Beh devo dire che comunque il confine già mi sembra abbastanza No non credo Ah perdonami scusa se ti farò laggare un pochettino ma Purtroppo No no ma la questione mia ne avevo un'altra Mi sa che bisognerà fertilizzare sta Eh sì 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 mi sa anche a me mi sa anche a me purtroppo Non puoi uscire dai capanni Ok raga allora abbiamo terminato Allora vediamo un po' come Ah beh abbastanza scarsino come campo eh Perché siamo nel centro sabbioso franco E nei lati franco sabbioso o al contrario ma non mi ricordo Comunque è proprio il campo più scarso che abbiamo Però nonostante ciò abbiamo comunque prodotto bene Sono uscite veramente un sacco di balle Quindi comunque l'idea di lasciare Eh di convertirlo a erba medica rimane Certo che però non ho un trattore adatto quel coltivatore Di sicuro il povero fendino Non ce la farà No ma non preoccuparti che Quel fendino lì Dici che tira tutto? Oh io lo provo eh Se poi non funziona pazienza Oh ma tu ti rendi conto che il fend Sta tirando questo kun in salita A tredici chilometri orari Sì sì ma io te l'ho detto che ti stupirà quel fend Ma è prepotente sto fend È veramente prepotente Bellissimo raga Bene comunque stiamo Ehm coltivando il campo Io ovviamente ho già messo la creazione dei terreni Perché sto allargando un pochettino Quelli che sono i bordi del reale campo Sto facendo un bordino in più Giusto per avere un pochettino più di ampiezza Anche perché essendo che il campo già guadagniamo poco da sto campo Se poi è pure piccolino insomma Non ha proprio senso di esistere Va bene dai ti lascio un attimino il fendino Mi raccomando non me lo rompere eh Mi raccomando trattamelo bene No 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 guardi Occhio che c'hai la creazione dei campi È attiva Allora Faccio attenzione va bene E io vado a vedere un attimino Per quanto riguarda qua Triticale campo 2 lo stiamo seminando Perfetto Bisognerà poi azotarlo ovviamente sì E poi rimane il campo 10 Il campo 10 che sarà anche qua da seminare sempre Per il momento facciamo tutto triticale raga Perché è proprio periodo di semina della triticale Quanto potrebbe venirci a costare Allora orca miseria ma la paglia al biogas 720 euro la paglia al biogas La paglia così tanto 720 euro la paglia al biogas e il fieno al biogas solo 180 Ma io vado subito a vendermi la paglia Sì appunto Vado subito a vendere perché così recuperiamo un po' di soldini raga Allora già che ci siamo almeno possiamo andare a vedere anche il biogas Che si troverebbe beh e chi si ricorda Ah qua Qua quindi dobbiamo salire per la segheria Ok bene instradati raga Andiamo a dirigerci verso il biogas Così vi faccio vedere anche il biogas per l'appunto Ah ah non ci credo Sali sul camion vieni a vedere Non ci credo raga non ci credo veramente Conad Superstore Non siamo sponsor della conad raga ma Qui c'è il cartello Ma non ci credo bellissimo Vabbè e devo dire anche l'ingresso al biogas veramente interessante Bello anche il biogas bello grosso Veramente enorme Bellissimo probabilmente dobbiamo vendere lì Anzi credo sicuramente dobbiamo vendere C'è anche la vendita dei liquami qua Ah e difatti anche i liquami si possono vendere in sta mappa E anche il concime il concime addirittura vale 720 euro Ma sto bisogna stare attenti a non perdersi Sì effettivamente è quasi più grosso il biogas che non tutta la La come si chiama Boh vabbè scarichiamo allora queste balle raga Io credo che queste balle le possiamo tranquillamente scaricare qua No no ma sciolte secondo me Le vuole proprio sciolte Sì vuole paglia Oh che stress Rimettiamo a lavoro questo e prendo un attimo il Lamborghini raga Andiamo a noleggiare uno sciogli balle Che poi se funziona ovviamente lo andiamo ad acquistare Perché per il momento raga non ho intenzione di prendere il cassone da carico Per il momento preferisco far continuamente balle Perché mi trovo comodo Mi piacciono poi anche le balle Le preferisco decisamente Allora raga eccoci arrivati al biogas Adesso proviamo come detto a noleggiare uno sciogli balle Uno noleggiamo magari quello classico Sì direi di sì Anzi potremmo anche noleggiare questo qua Che tanto costa poco il noleggio Allora segnare la balla me la segna Quindi vuol dire che l'ha accettata Vediamo se a questo punto caricandoci qui Oh sì che me lo dà Via scaricamento E sì che se lo prende Ah ok ci vuole la roba sciolta allora La come che aspetta si chiama La paglia sciolta Vabbè buona a sapersi dai A questo punto mi scarico Tutte le balle Facciamo una bella cosa Mi scarico tutte le balle E man mano me le carico E gliele vado a vendere Tanto sono 20.000 Io spero che Boh almeno almeno 200.000 litri Questo biogas possa contenerlo Anche di più spero sinceramente Questo intanto poi dovremmo rimandarlo a casa Però per il momento non possiamo Perché l'autodrive non ce l'abbiamo Poi quasi quasi gli creo un po' di autodrive Quanto le accetta così Sì me le ha scelta sciolte Modo bizzarro per vendere Ma sicuramente Meglio che il non vendere Anche perché 720 euro Ogni mille litri Raga una sola balla è da 20.000 14.000 litri Eh eh cioè 14.000 euro Da ogni balla? Sì Eh beh insomma Guardate quanto Ne abbiamo 20 Eh eh insomma Direi che un po' di soldini Riusciamo a recuperarli sicuramente Ok va bene Poi qua veremo raga Allora vediamo un attimino nella mappa Eh come si comporta il campo Eh uno Eh scusate campo 40 Sì veramente Solo il Come dire Solo il contorno Poi sarà da arare Ma vabbè raga Poi ce l'andremo ad arare con calma eh L'importante è che Iniziamo a Come dire Lavorare sto terreno Poi Il resto Vediamo Direi che possiamo Possiamo Iniziare a creare Un percorsino Autodrive raga Biogas Crea Ok Così almeno abbiamo già il punto biogas Boh Iniziamo a tornare indietro E iniziamo a creare Finalmente Il Percorsino Ok raga Percorsino creato Perfetto Così almeno siamo già Pronti Eh Per Andare avanti e indietro Poi ovviamente lo sistemerò per benino Perché Eh ci sono ancora punti in cui Non è stato fatto proprio il perfetto Perfettamente Però giusto per dare una prima infarinatura Della situazione Boh Andiamo un attimo a dare un'occhiatina Qua Stiamo seminando Il collega ha rimesso a seminare Sempre triticale Poi dovremo quasi quasi Tra un po' Dobbiamo venire a ricaricarlo Ma vabbè Poi lo ricaricheremo Qui Iniziamo a scaricare ancora un po' di paglia Per quanto riguarda il campo 40 Allora Valore pH Ok È da sistemare il pH Urca Ma davvero C'è un biogas così grande E il massimo Sono solo 50.000 litri Niente qua ragazzi Vorrà più tempo del previsto Penso che a questo punto Andrò a terminarmi Entro la fine della giornata Sono solo le 11 del mattino Dovrei riuscire a farlo Ma comunque al limite Mando un po' indietro il tempo Vabbè Io adesso per il momento Tengo il tempo a 15 per Che non è un tempo così tanto Cioè non corre così troppo Il tempo Vediamo Quello che riusciamo a fare Insomma Bene peccato Solo 50.000 litri A questo punto Credo che mi andrò a modificare La mappa Perché se sono solo 50.000 litri Cosa ci faccio con 50.000 litri Quando dovremo andare a fare Cose veramente grosse Beh Ok raga Allora Finito il campo 40 L'abbiamo coltivato Tutto per benino Adesso Dobbiamo solamente Andarla a seminare Mi dispiace Che comunque Sto coltivatore Non possa seminare Buon allora Questo lo lasciamo qua Ora prendiamo Prima di tutto Prima di andare a seminare Dobbiamo prendere Questo Con la calce viva Allora raga Partiti con la bella calce In realtà vedo che Non è che ne abbia bisogno Più di tanto Però Vabbè Gliela diamo comunque Perché alcune parti Mi sembra che Allora io adesso raga Do un po' di calce qua Veloci veloci E poi Andiamo subito A noleggiare Una nuova seminatrice Andiamo a seminare Questa erba medica Anche perché Dentro la fine dell'episodio Vorrei Per l'appunto Seminarla Così almeno parte Già con la Con la crescita E magari Quest'estate A proposito Ma è periodo di semina Dell'erba medica Penso di sì Perché l'erba medica È una di quelle cose Che Sì infatti Erba medica A parte il secondo Il terzo giorno d'inverno Che saranno proprio Quelli più freddi Si può seminare Tutto l'anno Ok raga Calce data Ne abbiamo dato Tutto Perfetto Mancherebbe solo Questo pezzettino Ok Terminato Calcele l'abbiamo data A questo punto Andiamo come detto A noleggiarci Sta seminatrice Ma non ci credo C'è la liturgia Come c'è la liturgia C'è la liturgia Ehi vabbè Vai a accendere Un cero Vai a accendere Un cero C'è la liturgia Ci sono i canti Oh signore Stanno pregando Perché esca un buon raccolto Si per noi Per un buon raccolto Non ci credo Ma belli Questi sono i dettagli Che mi piacciono Allora ragazzi Prendiamo questa Isaria Adesso non saprei dire 6000S Da 3 metri Ok Settiamo già Quello che dobbiamo mettere Ovvero Vediamo un po' Erba medica Eccola qua Erba medica E ce la Sistemiamo Oh comunque E' completamente Buggato Lo store dei semi Allora Boom Isaria Raga Riempita Una bellissima Seminatrice Adesso andiamo a seminare Questa bella erba medica Tanto abbiamo 700 semi Non credo Basteranno tutti Però iniziamo noi Dovrebbe essere Una seminatrice Di quelle Come si chiamano Che quando girano Le ruote Meccanica Una seminatrice Meccanica Si dovrebbe essere Una seminatrice Meccanica Perché non vedo Attaccate Prese di forza Però comunque Va lo stesso Accesa Per funzionare Vabbè Non fa niente Bene Partiamo Questo devo dire Che se la cava Veramente bene Tira Bene bene Seminiamo la nostra Bella erba medica Raga Allora Un girettino Giusto perché Ero curioso di provarla Sta seminatrice L'ho fatto Devo dire che Un pochettino Sobbalza Sta seminatrice Se ci metto l'operaio Adesso devo fare Una roba un po' Di farla andare Un pelino più Lentuccio Perché se no Li facciamo fare Primo punto Anche se in realtà Non è Granché Necessario L'abbassi La seminatrice O non l'abbassi Non riconosce La porzione Di campo in più Eh no No non la riconosce Devo andare Devo ricalcolarlo Devo ricalcolare Il percorso Vabbè dai Lasciamolo così Lasciamolo così Facciamolo andare così Poi me lo vado a sistemare Off camera Dai Fa niente L'importante è che Proceda bene Allora Qua Voglio vedere un attimino Voglio vedere un attimino Qua Come stiamo Come stiamo messi Beh non mancano poi Tante balle Alla fine Dai mi pare che Non mancano tante balle Ah bravo Lei ha abbassato Così è più semplice Effettivamente Non è che io ci ho pensato Vabbò dai raga Direi che comunque Per questo episodio Possiamo anche Fermarci Perché siamo arrivati Alla bellezza Già di un'ora Ok va bene Allora queste semine Raga La semina Dell'erba medica E la semina Del triticale E anche La vendita della paglia Mi andrò a finire Tutto off camera Così poi Il prossimo episodio Diamo una botta Di fertilizzata Ma andiamo avanti Il tempo E vediamo un attimino Di andare a inverno Perché voglio vedere anche Se quest'inverno Potrebbe Potrebbe Nevicare Magari Fare un po' di lavorazioni Con la neve Insieme al collega Detto ciò ragazzi Vi ricordo ovviamente In descrizione Tutti i miei link utili Compreso ovviamente Il link per preordinare Farming Simulator 22 E addirittura Trovate anche il link Per il season pass Se volete acquistarlo Trovate tutto in descrizione Così da supportare il canale Vi ricordo anche Il link del buon collega Mi raccomando Passate anche da lui E iscrivetevi Figurati Io ragazzi vi mando Un grosso saluto Un saluto al collega E ovviamente ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti